L'azienda USL Toscana Sud-Est, in coincidenza con l'arrivo di adeguate forniture di vaccini, intensificherà da giovedì 29 il ritmo di vaccinazione degli estremamente vulnerabili. Intanto gli operatori ASL stanno contattando circa 15.000 persone con patologie previste dalle raccomandazioni ministeriali che avevano preaderito al portale regionale prima del 19 marzo o che sono state segnalate dai centri specialistici che li hanno in cura. Il contatto avviene per via SMS per tutti coloro che hanno preaderito al portale regionale dove era obbligatorio l'inserimento di un numero di cellulare oppure tramite chiamata telefonica diretta. Per gli estremamente vulnerabili sono impiegati i vaccini Pfizer e Moderna. Da venerdì 30 aprile sarà aperto senza limiti il portale per le prenotazioni riservate alle persone nate tra il 41 e il 51 che non hanno ancora compiuto 80 anni. Ed ecco la programmazione vaccinale dei prossimi giorni. 29 aprile 44 fragili di categoria B al teatro Tenda, 330 al mattino e 330 al pomeriggio per 70-79 anni con AstraZeneca al centro affari. Il 30 aprile 44 fragili di categoria B e 250 di categoria A al teatro Tenda. Al centro affari 330 al mattino e 330 al pomeriggio per 70-79 anni. Il 1 maggio 44 fragili di categoria B e 250 di categoria A al teatro Tenda. Al centro affari 330 al mattino e 330 al pomeriggio con AstraZeneca per i 70-79 anni. 2 maggio fragili al teatro Tenda 44 di categoria B e 250 di categoria A. Contemporaneamente è partita la seconda dose con vaccino Moderna dei fragili a domicilio, una campagna che finirà il 9 maggio.